Un ragazzo 18enne è stato ferito ieri sera durante una rissa accaduta in via Italia a Battipaglia. Il giovane è stato colpito al braccio con i cocci di una bottiglia di vetro e le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare l'aggressore. Alla rissa avrebbero partecipato almeno 7-8 ragazzi a pochi passi dal municipio, sul posto carabinieri e polizia che stanno indagando per stabilire il motivo della lite, che potrebbe essere legato ad una ragazzina contesa. Il ferito egiziano 18enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza, dove è stato ricoverato e fortunatamente non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia che sta tentando di individuare tutti i protagonisti della rissa. Sono volati prima schiaffi e pugni tra due gruppi di ragazzi rivali e poi lo straniero è stato colpito al braccio con i cocci di una bottiglia di vetro utilizzati come un coltello. In centro si sono precipitate le volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri per intercettare i litiganti che si erano già allontanati.